Abbiamo giocato contro la terza o comunque una delle migliori del campionato, in queste partite qua noi con i nostri obiettivi deve essere perfetto, quindi quando ti si capita quelle poche occasioni del far gol e dopo noi ovviamente abbiamo retto, siamo stati duri, non abbiamo subito il gol, questo è esattato, quando ti si presenta l'occasione del far gol perché ne avrai poche contro questo tipo di squadra, è molto serio, quindi noi siamo stati bravi, ci è mancato quel piccolo passo in più per essere perfetto.